L'ecologia integrale, l'ambiente, sono i temi approfonditi nel corso del Città Nuova Week, un'iniziativa di carattere nazionale promossa dalla casa editrice Città Nuova, che si è tenuta anche a Nocere Inferiore intorno allo stesso tavolo. Illustri accademici che hanno approfondito il tema dell'ambiente, il tema dell'ecologia, l'hanno declinato sotto diversi aspetti in un agro che ha particolare attenzione e bisogno di parlare di ambiente, di parlare di ecologia, di parlare di sostenibilità. Città Nuova che cos'è? Prima di tutto direi che è un giornale che io leggo da quando avevo 17 anni e l'occasione di stasera mi ha proprio interpellato sul nucleo centrale, sulla forza di questo giornale. È un mensile di opinione, tratta tendenze, attualità, spiritualità, storie di vita, dall'ottica del dialogo e della fraternità. E il punto centrale è quello che il direttore del giornale Aurora Nicosia ha sottolineato con tre verbi. Città Nuova quindi inquadra, approfondisce, focalizza la realtà insieme ai lettori per voltare pagine insieme ai lettori. Città Nuova Week nello specifico parla di ecologia, di ambiente, tutti su per terra. Noi siamo dentro questa nostra umanità, questo nostro mondo ammalato, fragile e dove effettivamente occorre che tutti quanti noi prendiamo coscienza, consapevolezza delle problematiche ma soprattutto anche dire io in che modo posso collaborare per una svolta antropologica e anche di transizione umanistica. Noi, soprattutto noi, soprattutto noi dell'agro, dobbiamo in qualche modo non solo prendere sempre più coscienza ma soprattutto anche in che modo poter stimolare anche quella che è un'azione politica nel senso alto della parola perché noi abbiamo delle responsabilità sociali ma anche storiche. Non possiamo stare più a guardare ciò che avviene ma dobbiamo essere, come dire, costruttori di una nuova sfida culturale. È una scommessa questa sera per dire che tutti siamo impegnati, ecco, tutti, nel senso che è solo insieme e che possiamo in qualche modo recuperare una dimensione nuova. E qui c'è, come dire, in qualche modo un codice che è quello della relazione. È solo nella relazione, come dire, umana e anche planetaria che noi possiamo in qualche modo dare un significato nuovo alla nostra vita ma anche un impegno, vorrei dire, a tutta la nostra collettività. Per cui, ecco, Città Nuova Vic nasce come community di lettori di Città Nuova per dire noi ci siamo e vogliamo collaborare insieme ad altri per una trasformazione del nostro tempo e soprattutto anche della nostra realtà sociale ed ecologica. Questo evento si inserisce perfettamente nella nuova programmazione della nostra amministrazione. Infatti a breve partiranno proprio una questione di giorni che partiranno tutta una serie di iniziative legate proprio all'ecologia e alla sostenibilità. Diciamo che io, in primis, e il sindaco con tutta l'amministrazione crediamo fortemente nell'educazione, soprattutto delle fasce più giovani, all'ecologia. Infatti partiranno tutta una serie di eventi all'interno delle scuole. Possiamo chiamarlo quasi un autunno legato alla sostenibilità e all'ecologia. Quindi porteremo l'isola ecologica all'interno delle scuole in collaborazione anche con Lega Ambiente e con altre associazioni.